Nuova Estetica Daniela è un salone dedicato al benessere e alla bellezza di ogni cliente. Oltre a tradizionali trattamenti estetici, il centro propone percorsi innovativi grazie all'impiego di macchinari d'avanguardia e alle più avanzate tecniche di settore. Lasciatevi conquistare dai massaggi olistici e dalla cabina antistress, oppure sottoponetevi a laser terapia, elettroporazione o trattamenti per la salute e la bellezza del piede. Grazie allo staff certificato e sempre preparato. Per il vostro benessere vengono selezionati ogni giorno prodotti fitocosmetici di eccellente qualità, capaci di garantire risultati ottimali, sfruttando al meglio i benefici che la natura offre. Si effettuano inoltre trattamenti viso, trucco correttivo, applicazioni di smalto semipermanente, ciglia finte e molto altro ancora. Nuova Estetica Daniela, 40 anni di grande cura e professionalità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.